Brooke è una cagnolona dolcissima e affettuosissima, eppure si trova qui in Canele. La sua storia è questa. Lei è arrivata a Cucciola, è stata subito messa sul sito, ma nessuno l'ha voluta ai primi tempi. È stata adottata successivamente insieme ad una cagnolona, una maremmana di nome Stella. Era stata adottata dalla stessa famiglia. Noi eravamo felicissimi, era la famiglia perfetta, che amava i cani e li considerava come bambini. Però cosa è successo? Che quando Brooke e Stella sono andate in questa casa, la famiglia ci chiamò dopo un giorno dicendo di non volerle più. Nel Brooke e né Stella. Il perché non l'abbiamo mai capito. Tutte scuse. Probabilmente non era in grado di gestire due cani di taglia grande, se ne ero non resti conto, soltanto facendole arrivare. Adesso Brooke ha due anni. Voi pensate, è arrivata a Cucciola ed è da oltre un anno e mezzo in canile. Sì, perché arriva che aveva tre mesi e mezzo, quattro. Povera Brooke, guardate quanto è affettuosa. E si è anche calmata, prima era vivacissima, è tuttora molto vivace. Però è matura, perché è un cane a due anni matura. Secondo voi, una cagnolona così dolce può rimanere in canile? Solo per il fatto di essere stata rifiutata una volta perché è finita nelle mani della famiglia sbagliata? Questa meraviglia deve rimanere qui? In mezzo a 600 cani? Dimenticata da tutti? No, non è possibile. Brooke deve andare in una casa. Farà la vostra felicità. Certo, è consigliabile un giardino nel suo caso, perché è comunque una cagnolona che ha bisogno di fare movimento. Ma se voi la portate regolarmente a correre, a passeggiare nella natura, potrebbe anche vivere in appartamento. Perché no? Noi non vediamo l'ora. Non vediamo l'ora che venga adottata. Tolce Brooke. Adesso ti facciamo tante belle fotografie. Tu sei stupenda. Speriamo che stai ferma. In questo momento stai ferma e ne approfittiamo. Ciao amore. Ciao.